Le leggende metropolitane fanno pensare che Bruno Trentin fosse una persona austera, seria, che non ridesse mai, una persona straordinaria di una grande umanità e di una grande ironia. Allora noi ci dividevamo le cose, noi eravamo più giovani, quindi eravamo un po' più... Bruno invece aveva questa grande capacità, questa grande autorevolezza, l'ha considerato l'intellettuale. Allora prima di raccontarti questo, lui quando facciamo il contratto del 76 spiega perché noi chiediamo che vogliamo sapere prima quali sono gli investimenti, quali sono le procedure, i diritti di informazione per intenderlo. Lo spiega in una maniera tale che gli imprenditori a un certo punto erano convinti e Mandelli che era il rappresentante gli fa «Attenzione, attenzione a non farvi fregare! Trentin è come il lupo che parla a Capucetto Rosso, che cerca di convincere!» «Non fatevi convincere da lui!» Lui era brillante. Allora noi avevamo come controparte che faceva il contratto Felice Mortillaro, che Ottaviano del Turco aveva battezzato come diciamo «Lotta continua!» lo chiamavamo, perché lui non voleva mai fare i contratti. E poi aveva insistito Ottaviano, lo chiamava, allora c'era una trasmissione «Il calcio minuto per minuto» Quando parlava Mortillaro, lui diceva «Il medioevo minuto per minuto per queste cose» Allora noi siamo al primo maggio del 1976, Carniti non c'è più, c'è Bentivogli, ci sono io, eccetera. Noi vogliamo fare il contratto per festeggiare il primo maggio. Mortillaro non vuole fare il contratto perché lui dice «Questi vanno nelle piazze e dicono abbiamo strappato il primo contratto, come facciamo?» Questo perde tempo. Noi insistiamo perché lui ci fa delle richieste che non sono mediabili. Allora diciamo a Bruno «Tu che sei il più educato, che ti presenti meglio di tutti, che ti vedono che sei saggio, eccetera, vai da Mortillaro, chiedigli di parlare e gli dici che tu vuoi chiudere il contratto, pensi, vuoi parlare con lui, di fare una riunione riservata con Mortillaro, così ci scambiamo le idee. Chiudiamo a chiave Mortillaro e tu vai a telefonare ad Agnelli perché eravamo nel palazzo della Confidusia. Lo concordiamo assieme, se lo racconto sembra quasi diamo gli ordini di Bruno. e fa così. Bruno lo vede, sai com'era lui, sempre dietro con quella morsa enorme. Lo vede, si mettono in una stanza e poi Bruno fa a Mortillaro. Scusi, ma dice devo andare al bagno. Il bagno chiude la porta a chiave. Esce e va su per telefonare ad Agnelli. Agnelli gli risponde e gli dice come vanno le cose perché Agnelli era sempre gentile. E dice, ma andrebbero bene. Ma le ho telefonato. Per una minuzia non riusciamo a fare il contratto. E' una minuzia, una cosa di poco conto. C'è un intestino, sono intestardita la Federmeccanica. Non dice Mortillaro. E' intestardita la Federmeccanica. Domani è il primo maggio. Ma vi conviene, dico avvocato, le conviene a lei che in tutte le piazze si dice che mentre c'è la festa nel primo maggio la Federmeccanica impedisce di fare il contratto. Ma per una miseria. Gli fa il discorso e Agnelli si convince. Fa un ragionamento anche se per quale motivo devo... E dice va bene. Apriamo la porta di Mortillaro e viene chiamato da Agnelli e facciamo il contratto. Mortillaro Piglia Trentini. Da lei, lei che è una persona per bene. Queste sono cose che potevano fare in Bentivogli. Benvenuto. Ma perché? Non le parlerò più. E allora c'era Bruno, non lo dimenticherò, che stava così con la testa bassa con questo che gli diceva. Potrei raccontartene tante di Bruno. Perché lui, nei momenti di chiusura, era la persona che riusciva a convincere Agnelli. Perché Agnelli aveva una visione monarchica. Lui si sentiva un re, eccetera. E quindi questo fatto che tu gli andavi a chiedere qualcosa, lui capiva, sapeva distinguere quali erano i veri problemi. Mortillaro era più legato alla norma piccolina, alla norma specifica, alle altre questioni. E quindi Bruno aveva questo compito di cercare di convincere le cose, ma ce ne potrei dire tantissime. Grazie a tutti.